... dell'audizione del Ministro della Salute, Professor Orazio Schillacci, sulle linee programmatiche del suo di Castero. Avverto che i deputati possono partecipare in videoconferenza della seduta odierna secondo le modalità stabilite dall'aggiunta per il regolamento. Avverto altresì che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la web tv della Camera dei Deputati. Ricordo che nella seduta del 7 dicembre il Ministro ha svolto la sua relazione e che sono intervenuti diversi deputati per porre quesiti e svolgere osservazioni. La seduta odierna è pertanto finalizzata e consentirà al Ministro di svolgere la sua replica. Inoltre il Ministro della Salute ha dato la propria disponibilità a trattare nell'ambito del seguito dell'audizione il tema della carenza di alcuni medicinali a seguito della richiesta avanzata la scorsa settimana da alcuni gruppi di avere tempestivamente informazioni al riguardo. Ringrazio quindi il Ministro Schillaci per la disponibilità e per la sua partecipazione a presenza odierna e gli cedo la parola. Prego, Signor Ministro. Buonasera a tutti. Gentile Presidente, desidero ringraziare lei, i membri di questa Commissione, per l'invito ricevuto che mi consente di fornire ulteriori elementi di dettaglio del mio programma di governo rispondendo alle specifiche questioni sollevate nel corso dell'audizione dello scorso dicembre. Partiamo dall'On. Elena Bonetti sul tema della differenza di livelli di assistenza sul territorio. L'On. aveva nella scorsa incontro detto che il nostro sistema sanitario presenta tuttora una situazione profondamente difforme tra i vari contesti regionali. Questa situazione difforme si traduce in non pieno e compiuto rispetto di un principio costituzionale che lei stesso ha richiamato e intenzione da parte del Ministero nella gestione dei rapporti con i livelli di commissariamento regionali. Ieri abbiamo esaminato in questa Commissione proprio il tema del commissariamento in Calabria. Ci sono anche altri contesti territoriali che sono profondamente critici. Inoltre c'è un tema, lei l'ha citato, quello di IRCCS, che è sempre oggetto di trattazione di questa Commissione e che mi pare meriti anche da questo punto di vista una risposta che vada a valutare puntualmente le istituzioni territoriali differenziate, come abbiamo richiamato. Replico, come ho avuto modo già di evidenziare nella mia relazione introduttiva, in un sistema di gestione dei servizi sanitari in capo alle Regioni, il compito di Castero della Salute è quello di dare impulso alle azioni da intraprendere, tracciare il disegno generale cui dare corso e monitorare i singoli servizi sanitari regionali, verificando attraverso l'opera di questo monitoraggio la quantità e la qualità dell'erogazione delle prestazioni sanitarie sul territorio. Fondamentale a tal fine sarà l'adozione del cosiddetto decreto tariffe e quindi l'effettiva adozione del nuovo nomenclatore nazionale, poiché attraverso di esso sarà resa uniforme in tutte le Regioni la definizione e la codifica delle prestazioni ambulatoriali. Ribadisco che tale uniformità renderà possibile il monitoraggio delle prestazioni ambulatoriali LEA attraverso il confronto diretto tra Regioni in termini di soddisfazione di bisogni sanitari, di accessibilità ai servizi, di tempi di attesa e di appropriatezza delle prescrizioni. Per quanto concerne il tema del commissariamento, in particolare della Calabria, il Governo di cui faccio parte, già nell'immediatezza dell'insediamento, ha adottato disposizioni per prorogare le misure in atto, nella consapevolezza che il lavoro da svolgere è ancora notevole e con l'assicurazione che il Ministero che rappresento garantirà il massimo impegno nell'attività di affiancamento alla struttura commissariale della Calabria, al fine del superamento delle criticità proprie di quel contesto territoriale. Per quanto riguarda gli RCCS, segnalo che il decreto legislativo di riordino è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 304 del 30 dicembre 2022 e prevede, tra l'altro, misure volte a rivedere la collocazione regionale degli istituti onde promuovere sull'intero territorio nazionale un sistema integrato di ricerca. Inoltre, l'articolo 11 di questo decreto, in attuazione di uno specifico criterio di delega, consente l'accesso alle prestazioni di alta specialità erogate dagli RCCS anche ai cittadini residenti in altre regioni, secondo i principi di appropriatezza e di ottimizzazione dell'offerta del sistema sanitario nazionale. Sempre l'onorevole Bonetti sul tema dell'accessibilità dei dati, ripeto alcune di quello che è stato detto precedentemente. Il secondo punto che lei ha richiamato e mi pare altrettanto importante è la questione della necessità di avere dei dati. La trasparenza totale dei dati, l'accessibilità dei dati anche alla comunità scientifica è uno degli elementi chiave. Quindi io veramente la invito a non trascurare, so che lei su questo non può che essere sensibile, vista la sua alta professionalità, proprio in questo settore, il fatto che ogni cosa che rimane opaca nel mondo scientifico di fatto perde il suo elemento di scientificità. Con riferimento al potenziamento della capacità di raccolta, analisi e diffusione dei dati a livello centrale, nel richiamare quanto riferito in tema di iniziative sul fascicolo sanitario elettronico in materia di sanità digitale, al fine di utilizzare al massimo il potenziale creato dalle tecnologie digitali per introdurre innovazione nella tutela della salute e nell'assistenza, segnalo l'implementazione del progetto di potenziamento e ampliamento a livello centrale del sistema informativo sanitario nazionale. In termini di evoluzione ed ammodernamento dell'infrastruttura, dei sistemi di costruzione, raccolta, elaborazione, validazione e analisi dei dati sanitari. Con specifico riferimento alla materia della salute umana e animale, nonché alla sorveglianza e vigilanza sanitaria, è previsto nel PNRR un investimento con più interventi che coinvolgono, oltre alle strutture dell'amministrazione centrale, anche il livello regionale e locale. Sempre onorevole Bonetti, sul tema delle campagne vaccinali, altro elemento importante che lei ha richiamato, sul quale voglio tornare, il tema della prevenzione e dello screening. Certamente paghiamo anni rispetto ai quali il Covid ha impedito un accesso pieno a questo elemento. È chiaro che su questo serve oggi un impulso ulteriore. Su questo mi permetto di dire che c'è un tema importante, lei l'ha richiamato, quella della cronicizzazione per l'invecchiamento della popolazione, ma c'è un tema altrettanto importante che riguarda l'infanzia, forse oggi non sufficientemente presente nel dibattito pubblico. Su questo mi permetto anche di dire che non aiuta il nostro Paese a fare passi avanti una ulteriore diffidenza che si possa reinserire nell'ambito delle campagne sulla vaccinazione. Nel Paese nazionale oggi il nostro Paese ha un impegno altissimo sul target della vaccinazione HPV per la prevenzione del tumore della servizio uterina, ma abbiamo visto che i dati sono in peggioramento. Quindi io invece invito dalla campagna per la vaccinazione influenzale a questo tipo di campagna il Ministero ad assumere prontamente posizioni nette, forti e nitide in questo senso. Ribadisco in questa sede che il mio impegno favorire un'attività di informazione e comunicazione che metta davvero al centro le esigenze dei cittadini, in riferimento alle prossime sfide del Sistema del Servizio Sanitario Nazionale. Per renderla più efficace, anche nel contrastare la disinformazione, cercherò con maggior metodo la collaborazione delle professioni sanitarie, delle società scientifiche, delle associazioni dei pazienti e del volontariato, insieme alle regioni e alle province autonome, agli enti del Servizio Sanitario Nazionale. Riguardo alla vaccinazione sappiamo che la sua valenza come strumento di prevenzione e il senso di responsabilità degli italiani hanno dimostrato in occasione della massiccia adesione alla campagna vaccinale anti-Covid-19 e questo ha permesso di tornare a vivere senza le limitazioni del passato. Tuttavia non dobbiamo abbassare la guardia, soprattutto per proteggere la salute delle persone fragili e degli anziani. Per questi motivi il Ministero della Salute ha lanciato la campagna Proteggiamoci, anche per i momenti più belli, Vacciniamoci contro il Covid-19 e l'influenza stagionale, proprio per invitare a mantenere un comportamento responsabile nei confronti del Covid-19 e dell'influenza stagionale, promuovendo la vaccinazione, strumento di primaria importanza per proteggere se stessi e gli altri. La campagna è stata rivolta a una molteplicità di soggetti che per diverse condizioni sono i destinatari dell'offerta vaccinale contro l'influenza stagionale e contro il Covid-19, principalmente le persone fragili e gli anziani. La campagna ha previsto uno spot televisivo della durata di 30 secondi, uno spot radiofonico della durata di 30 secondi, diffuse sulle reti televisive e radiofoniche nazionali del servizio pubblico RAI, negli spazi riservati alle pubbliche amministrazioni mediante la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Informazione ed Editoria, nonché la diffusione dello spot televisivo sulle principali emittenti televisive privati commerciali nazionali, Canali 5 e Rete 4, e sugli account social del Ministero della Salute. Sono inoltre in programma campagne rivolte alla prevenzione primaria e secondaria, soprattutto sull'addizione agli screening oncologici e sull'importanza dei controlli periodici per recuperare quello che la pandemia ha tolto. Puntando sulla rilevanza delle campagne informative, anche con riguardo alla prevenzione contro l'HPV, ricordo la campagna di informazione in corso, proteggi il loro futuro, che raccomanda la vaccinazione contro il papillomavirus gratuita per ragazze e ragazze a partire dagli 11 anni di età. Tema del finanziamento, il MES. Onorevole Bonetti, allora io le chiedo proprio perché sposo la sua linea della non ideologia, perché non abbiamo dato seguito all'attivazione e nemmeno alla ratifica per quanto riguarda il MES, e quindi questi 37 miliardi che avremmo potuto utilizzare pressoché a tasso zero e che il Governo decide di non utilizzare, in che modo sono sostituiti. Questi 37 miliardi sarebbero serviti esattamente per fare quello che lei ha detto e che ha intenzione di fare. Quindi la domanda di fondo è se non prendiamo queste risorse a tasso pressoché zero, dove troviamo i 37 miliardi che sono necessari per fare tutte le azioni che lei giustamente ha richiamato e che sono importanti da fare. Riguardo a questo argomento è noto che nel corso di un recente incontro con i vertici del meccanismo europeo di stabilità Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio dei Ministri ha anticipato la possibilità di avviare verifiche insieme con gli altri Stati adenenti al MES al fine di possibili correttivi per rendere strumenti effettivamente capaci di rispondere alle esigenze dell'economia e dei diversi Stati. Pertanto allo Stato non posso che rinviare ogni ulteriore valutazione all'esito di questi approfondimenti ed al conseguente dibattito parlamentare. E passiamo all'onorevole Furfaro. Il primo tema è quello del finanziamento con riferimento alle assunzioni e ai salari del personale sanitario. Riprendo le sue parole, accogliendo anche il suo invito a cercare di superare anche in una logica di trasversalità le contrapposizioni, le chiedo dove troverà le risorse per i prossimi anni, anche per provare a colmare il gap tra il numero di medici e di pediatri che dovremo avere e quello attuale. Tra l'altro un gap che è determinato non solo da un'insufficienza in numero di organico, ma come ci ha comunicato l'ufficio parlamentare di bilancio, anche costruito purtroppo e incentivato da un dumping salariale che lei conosce bene, che deriva anche dall'estensione della flat tax. Idem per le liste d'attesa e le chiedo con quali finanziamenti e risorse pensa di aumentare l'organico. Visto che il vincolo assunzionale non è stato tolto, le chiedo quando intenderà toglierlo. Rispetto al medico di base c'è una questione che ho molto a cuore, perché come saprà ci sono 60.000 italiani senza fissa dimora, cioè persone che a causa della povertà e della diseguaglianza finiscono a vivere in una macchina perché non riescono a pagare l'affitto perdono la residenza e purtroppo anche il diritto al medico di base e quindi il diritto alla cura. Replico, riguardo a questo tema ribadisco che sarà necessario garantire adeguate risorse al sistema, soprattutto nelle specialità e negli ambiti disciplinari che oggi registrano scarse adesioni. Rinnovo il mio impegno ad assicurare le risorse al sistema per reclutare nuovi professionisti e per restituire la giusta serenità a tutti coloro che sono già in servizio e lavorano con dedizione ed impegno, talvolta in sedi disagiate e rischiose, migliorandone progressivamente le condizioni di lavoro anche al fine di ridurre le condizioni di rischio che favoriscono, in particolare nei servizi maggiormente critici, anche l'emergere crescente di episodi di violenza in danno degli operatori sanitari. Mi preme più in generale però sottolineare che le difficoltà che ora si riscontrano nel nostro sistema sanitario nazionale sono il frutto di strategie errate e di trascuratezza nelle valutazioni di problematiche annose che affondano le radici nel passato. Per quanto riguarda la questione della platea dei cittadini che versano in condizioni di estrema povertà e disagio, al punto di essere senza fissa dimora e di non poter neanche esercitare il diritto all'assistenza sanitaria, preciso che comunque il nostro sistema sanitario garantisce l'accesso alle prestazioni di emergenza, urgenza e cura a tutti i cittadini, anche stranieri, presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, cui sono assicurate nei presidi pubblici accreditati le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, con particolari riguardo alla profilassia, alla diagnosi e alla cura delle malattie infettive. Colgo questa occasione anche per ricordare il meritorio e quotidiano lavoro svolto dall'Istituto Nazionale per la Promozione della Salute delle Popolazioni Migranti e il Contrasto alla Povertà, INMP. Vigilato dal Ministero di cui ho la responsabilità, il cui impegno è quello di fronteggiare all'interno del Servizio Sanitario Nazionale le sfide sanitarie delle popolazioni più vulnerabili, attraverso un approccio transculturale, olistico e orientato alla persona, e quello di sviluppare sistemi innovativi per contrastare le diseguaglianze nell'ambito della salute in Italia, rendere più agevole l'accesso al Servizio Sanitario Nazionale per i gruppi sociali più svantaggiati e assicurare un alto livello di qualità delle prestazioni fornite. Questo obiettivo è perseguito quotidianamente attraverso l'assistenza socio-sanitaria rivolta a tutti i cittadini, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili della popolazione, la ricerca sulla promozione della salute per le popolazioni fragili e migranti e per il contrasto delle malattie della povertà, anche attraverso progetti clinici e lo studio di modelli sperimentali per la gestione di servizi sanitari dedicati, la realizzazione di programmi di formazione e di educazione sanitaria, la promozione e la gestione di un network di stakeholder italiani ed internazionali. Altro tema, sollevato dall'onorevole Furfano, era quello della salute mentale. Ripeto, nella sua relazione non ha citato la salute mentale, la necessità di una maggiore integrazione socio-sanitaria ci preoccupa molto, anche alla luce delle conseguenze evidentemente date dal Covid. In tema di salute mentale, vi ricordo che nella legge 197 del 2022, nella legge di bilancio per il 2023, precisamente al comma 538 dell'articolo 1 è stata inserita la norma sul bonus a sostegno della salute mentale. Per quanto concerne l'integrazione socio-sanitaria, già oggetto del decreto ministeriale 77 del 2022, non chiede recente disegno di legge deleghe al Governo in materia di politica in favore delle persone anziane, rilevo che la stessa continua a rappresentare una priorità. Infatti ribadisco la necessità di partire da un'attenta valutazione dei bisogni della persona, da riposizionare al centro di ogni ragionamento in materia socio-sanitaria, anche attraverso l'attivazione dei PUA, punti unici di accesso, presso le case della comunità, per facilitare l'accesso ai servizi sanitari e sociali e per garantire poi la presa in carico delle persone, nell'ambito di un sistema strutturato. È indispensabile procedere ad una riduzione del gap intercorrente tra le diverse regioni, mediante l'adozione di strumenti uniformi che assicurino la valutazione multidimensionale dei bisogni della persona sotto il profilo clinico, funzionale e sociale e la redazione del piano di assistenza che prevede il coinvolgimento di tutte le componenti dell'offerta assistenziale e sanitaria, socio-sanitaria e sociale della persona e della sua famiglia. Sempre su questo tema e su quello correlato alla salute mentale, segnalo il Programma Nazionale Equità nella Salute, PN, incluso nell'accordo di partenariato della politica di coesione europea 2021-2027, approvato con decisione di esecuzione dalla Commissione europea C nel 2022, del 4 novembre 2022. Il PN interviene nelle sette regioni meno sviluppate del Paese, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, per rafforzarne i servizi sanitari e renderne più eco l'accesso. Il programma individua quattro aree per le quali è più urgente intervenire ed è necessaria un'iniziativa nazionale a supporto dell'organizzazione regionale e locale dei servizi sociosanitari, contrastare la povertà sanitaria, prendersi cura della salute mentale, il genere al centro della cura, maggiore copertura degli screening oncologici. Gli interventi del PN sono sostenuti dal Fondo Sociale Europeo PLAS per 375 milioni e dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR per 250 milioni. A valere sul FESR saranno realizzati interventi di adeguamento infrastrutturale e di potenziamento tecnologico dei dipartimenti di salute mentale, di consultori familiari, dei punti screening. Oltre all'acquisto di motorhome attrezzati per l'erogazione di prestazioni sanitarie, incluse prestazioni odontoiatriche ai vulnerabili socio-economici in outreaching. A valere sul Fondo Sociale Europeo PLAS si procederà altresì al rafforzamento dei servizi dei dipartimenti di salute mentale, che implementeranno i progetti terapeutico-riabilitativi personalizzati, nonché dei servizi dei consultori familiari e dei punti screening, attraverso l'adozione di nuovi modelli organizzativi e o percorsi diagnostico-terapeutici PDTA e il reclutamento di nuovo personale. Tali azioni di rafforzamento dei servizi prevedono interventi di adeguamento delle competenze e di informazione e sensibilizzazione tramite percorsi formativi e campagne che saranno sviluppati dal Ministero della Salute. Infine voglio ricordare le attività già in corso per le quali è mia intenzione promuovere una continuità del finanziamento. Attività in tema di disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, fondo per il contrasto disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. Attività del benessere della persona, favorendo l'accesso ai servizi psicologici nelle fasce più deboli della popolazione, con priorità per i pazienti affetti da patologie oncologiche, nonché per il supporto psicologico dei bambini e degli adolescenti in età scolare. Attività per garantire la compiuta attuazione della legge 134 2015 su disposizioni in materia di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette da autismo e di assistenza alle famiglie. Attività di promozione e di strategie per il miglioramento della qualità e della proprietà degli interventi assistenziali nel settore delle demenze. Passiamo all'onorevole Ciocchetti, che aveva sollevato un tema sul turnover del personale. Il tema del personale credo sia la questione più drammatica che abbiamo di fronte, anche per la demotivazione, soprattutto per alcune categorie, come chi lavora nei pronto soccorso. Credo che questo sia un tema che nel prossimo anno il Governo si porrà per cercare di superare profondamente questa situazione, anche per il personale tecnico e il personale amministrativo, che in qualche modo ha visto bloccato le opportunità di turnover. In ordine a questo tema del personale rimando a quanto ho già precisato, in merito al mio impegno a trovare le risorse necessarie per superare il blocco dei turnover. In ogni caso ritengo mio preciso dovere ovviare, con misure di carattere sistematico, a errori che si sono fin qui accumulati. In tema di programmazione dei fabbisogni del personale sanitario, ciò anche intervenendo, d'intesa con il Ministro dell'Università, sul tema degli accessi ai corsi universitari e alle scuole di specializzazione. Sempre l'Onorevole Sciocchetti aveva sollevato il tema del payback. Il tema del payback che è stato applicato in maniera folle, scusate il termine, credo sia una norma anticostituzionale perché richiedere indietro i pagamenti ai fornitori che hanno vinto una gara quando una Regione sfora il tetto posto per l'acquisto dei dispositivi sanitari. Dal 2015 adesso io chiedo i soldi indietro, credo sia una cosa sbagliata. È una questione su cui chiedo che si possa, ci sono elementi a riguardo, trovare una soluzione. Rispondo. Come noto abbiamo affrontato insieme al Ministro dell'Economia e delle Finanze di recente la problematica del payback dei dispositivi medici. In funzione di una norma forse troppo frettolosamente inserita dal Governo precedente in un decreto legge del 2015, che ha determinato il proliferarsi di un vasto contenzioso promosso dalle aziende fornitrici di dispositivi medici. Conseguentemente i termini originariamente fissati per il payback sono stati rivisti con una specifica disposizione inserita nel decreto legge numero 4 adottato in data 11 gennaio 2023, che ha modificato il termine entro cui le aziende fornitrici di dispositivi medici inderoga alla disciplina vigente sulle modalità procedurali del ripiano e limitatamente al superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, dichiarato con decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, sono tenute ad adempiere all'obbligo di ripiano del superamento del tetto di spesa posto al loro carico. In particolare è stato stabilito che le suddette aziende fornitrici abbiano la possibilità di versare la loro quota entro il 30 aprile 2023 in luogo dello stringente termine di 30 giorni precedentemente fissato dalla norma di cui sopra. Sempre l'onorevole Sciocchetti il tema dell'assistenza domiciliare. Il PNRR, come lei ha richiamato, ha fatto una serie di stanziamenti sugli ospedali di comunità, sulle case di comunità e su altro, ma prevede uno stanziamento invece assolutamente insufficiente per l'assistenza domiciliare, che è la risposta alla cronicità e che è la risposta alle persone anziane che vivono da sole in questo Paese. Spero davvero che nei prossimi mesi si possa lavorare intorno anche all'individuazione di opportunità per mettere in campo un grande piano di assistenza domiciliare e sanitaria integrata. Replico. Con riferimento al tema dell'assistenza domiciliare, Adi, ricordo il decreto numero 77, di cui ho già illustrato ampiamente nel corso della mia prima audizione e aggiungo che l'investimento previsto all'interno del PNRR persegue l'obiettivo di aumentare il volume delle prestazioni rese in assistenza domiciliare. Fino a prenderne in carico, in linea con le migliori prassi europee, entro il giugno 2026, il 10% della popolazione di età superiore ai 65 anni rispetto all'attuale media di circa il 5% relativa alle diverse regioni italiane. Il livello medio nazionale del valore del 10% da raggiungere con il contributo di tutte le regioni o province autonome terrà conto di specifiche difficoltà regionali. La milestone italiana prevede la pubblicazione del decreto di assegnazione delle risorse per conseguire il primo step dell'incremento del 10% di nuovi assistiti previsto entro il giugno di quest'anno. Oggi è in corso la definizione di riparto perché si sta lavorando all'accordo nella conferenza delle regioni. Inoltre ricordo che è in corso di definizione il disegno di legge recante deleghe al governo in materia di politiche in favore delle persone anziane anche in attuazioni alla missione 5 componente 2 riforma 2 del piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di assistenza agli anziani non autosufficienti. Ove le deleghe previste riguardano principalmente le politiche per l'invecchiamento attivo, la promozione dell'autonomia, la prevenzione della fragilità, l'assistenza e la cura delle persone anziane anche non autosufficienti. In particolare è prevista l'emanazione di uno o più decreti legislativi finalizzati ad assicurare la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura ed assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti, nonché la promozione del progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali in favore delle persone anziane non autosufficienti. Onorevole Andrea Quartini sul tema dell'organizzazione dei pronto soccorsi e degli standard ospedalieri. Scusate, aveva detto l'onorevole l'organizzazione del pronto soccorso e il problema sono i due imbuti. In ingresso perché il territorio va fatto lavorare bene, soprattutto nell'ambito della cronicità e in uscita, perché la riduzione dei posti letto dentro gli ospedali implica una congestione del pronto soccorso e lo rende invivibile. Prima di tutto ai pazienti che per ore rimangono fermi nei pronto soccorso, ma anche ai colleghi che ci lavorano, al personale infermieristico, al personale OSS, ai medici. Quindi è chiaro che va rivisto il sistema. E io dico anche che il decreto numero 77 doveva essere il decreto numero 69, perché doveva arrivare prima del decreto numero 70 dei nuovi standard ospedalieri su cui si doveva intervenire in maniera tale che fosse il territorio che funzionando bene sottraeva i posti letto e non viceversa. Si è pensato che riducendo i posti letto si riusciva a far funzionare il territorio. Replico. Sul tema degli ospedali ribadisco l'impegno a completare l'aggiornamento degli M70, che risale al 2015 e che disciplina gli standard dell'assistenza ospedaliera, al fine di promuovere una più stretta integrazione fra l'ospedale e il territorio, alla luce dei nuovi modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale previsti dal DM77 del 2022 e gli obiettivi previsti dalla missione 6 del PNRR di promuovere l'assistenza di prossimità e l'innovazione tecnologica, sia in termini di telemedicina che di ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero. Mediante la revisione del regolamento sugli standard ospedalieri sarà possibile aggiornare gli standard stessi per le procedure mediche e chirurgiche per le quali esistano evidenze scientifiche di una correlazione tra volume ed esiti. Nonché gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici, organizzativi relativi all'assistenza ospedaliera e le reti assistenziali ospedaliere di patologia, anche alla luce di quanto appreso in seguito alla pandemia da Covid-19. Inoltre c'è la necessità di migliorare la regolamentazione delle deroghe agli standard per le realtà che scontano una condizione geografica particolarmente disagiata e per le regioni più piccole, fermo restando il focus sul rapporto volume-esiti. Sottolineo inoltre l'importanza del completamento del processo di potenziamento dei reparti di terapia intensiva avviato durante la legislazione emergenziale, sia in termini di preparazione del sistema in caso di nuove emergenze, sia per uniformare ed elevare la capacità di risposta di assorbimento di una domanda improvvisa e imprevedibile su scala locale. Tra gli aspetti da tenere in considerazione, inoltre, ritengo utile dare seguito alla sperimentazione dei criteri di appropriatezza dei ricoveri ospedalieri di riabilitazione, anche alla luce del decreto ministeriale del 5 agosto 2021 sui criteri di appropriatezza dell'accesso ai ricoveri di riabilitazione ospedaliera. Sostanzialmente, una revisione del DM70 non potrà non tener conto dei recenti insegnamenti emersi proprio dalla gestione della pandemia. Necessità di flessibilità della rete ospedaliera a fronte di fenomeni non sempre prevedibili, potenziamento delle aree strategiche, quale quelle della terapia intensiva e semi-intensiva, e come problema rimasto e risolto la classificazione dei piccoli ospedali e dei punti nascita substandard. Inoltre, una revisione non potrà prescindere dal coordinamento con il decreto ministeriale 77 del 2022 e le principali novità che lì sono previste. Di seguito brevemente richiamate le case di comunità, aperte 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, il modello organizzativo dell'assistenza di prossimità per la popolazione, la centrale operativa 116117, il servizio telefonico attivo 24 ore al giorno, da contattare per le esigenze sanitarie e sociosanitarie a bassa intensità assistenziale. La centrale operativa territoriale, COT, per il raccordo tra servizi e professionisti coinvolti nei diversi setting assistenziali, attività territoriali, sanitarie e sociosanitarie, ospedaliere e coordinamento con la rete dell'emergenza urgenza, unità di continuità assistenziale, equip mobile distrettuale per la gestione del supporto della presa in carico di individui o di comunità che versano in condizioni clinico-assistenziali di particolare complessità, l'ospedale di comunità di funzione intermedia fra il domicilio e ricovero ospedaliero, la rete delle cure palliative. Colgo l'occasione per anticipare che proprio in questi giorni ho avviato i lavori di un tavolo per affrontare le criticità che da tempo si registrano per le attività di pronto soccorso. Sarà mia cura tenervi informato sull'esito dei lavori di questo tavolo. E sempre l'onorevole Quartini sul tema della flat tax. Chiedo al Ministro se non ritiene una grande contraddizione il fatto di rendere più attrattivo il lavoro delle partite IVA con la flat tax che lavorare nel servizio pubblico. Perché oggi un medico che guadagna 80.000 euro nel servizio pubblico viene tassato al 40%, se va a fare libero professionista viene tassato al 15%. Questo è un elemento su cui secondo non solo il sottoscritto ma molti altri, anche le categorie sindacali, lo hanno sottolineato a più riprese, dobbiamo riflettere. Replico. Per quanto riguarda di rendere maggiormente attrattivo il lavoro del personale sanitario nel servizio pubblico attraverso una progressiva detassazione. Come noto questo è un tema sul quale il Governo ripone particolare attenzione. Come testimoniano peraltro le recenti norme inserite in legge di bilancio riguardanti la detassazione dei premi di produttività e di risultato. Sul medesimo tema in corso interlocuzioni con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e per quanto di competenza con i Ministri della pubblica amministrazione e del lavoro. Riguardo alla necessità di una rivalutazione del trattamento economico di tutto il personale del sistema sanitario nazionale, richiamo quanto già esposto nelle mie linee programmatiche. In merito alla vera e propria fuga registratasi negli ultimi anni da alcune specialità che sono diventate sempre meno attrattive. A ciò si aggiunga che la pandemia ha probabilmente contribuito a determinare l'accentuazione del fenomeno delle dimissioni per cause diverse dai pensionamenti. Come ho evidenziato riguardo al fenomeno dei cosiddetti gettonisti o turnisti, anche il mondo della sanità è coinvolto in processi di estanalizzazione e sempre più professionisti preferiscono non legarsi ad un'organizzazione con il classico contratto di lavoro a tempo indeterminato, predileggendo forme di ingaggio atipiche, anche in ragione delle remunerazioni proporzionalmente più elevate. E' quindi fondamentale assicurare le necessarie risorse al sistema per restituire la giusta serenità a tutti i professionisti che ogni giorno lavorano con dedizione ed impegno, migliorandone le condizioni di lavoro, riducendo le condizioni di rischio che favoriscono, come dicevo prima, nei servizi maggiormente critici l'emergere di episodi di violenza in danno degli operatori sanitari. Ribadisco che mia intenzione è affrontare, anche con provvedimenti straordinari e di urgenza, il fenomeno crescente del ricorso ad appalti esterni da parte delle aziende e degli enti del sistema sanitario nazionale per garantire i servizi assistenziali. L'uso distorto delle esternalizzazioni, infatti, non solo genera un sempre più gravoso onere in capo alle strutture, ma comporta anche gravi criticità in termini di sicurezza delle cure, sia perché non sempre offre adeguate garanzie sulle competenze dei professionisti coinvolti, sia per la ridotta fidelizzazione di queste ultime strutture pubbliche, derivanti da ingaggi professionali spesso distribuiti contemporaneamente su più sedi, con conseguente mancanza di conoscenza da parte dei turnisti dell'organizzazione delle unità operative in cui svolgono le loro prestazioni per poche ore, spesso nell'arco di un mese. Come ho esposto nelle mie linee programmatiche, una delle mie prime iniziative appena insediatomi nel di Castero è stata quella di incaricare i NAS che hanno effettuato specifici controlli sulle cooperative di fornitura dei servizi sanitari. Da tali controlli sono emerse fatti specie di frode in adempimento delle pubbliche forniture per aver inviato personale in attività di assistenza ausiliare presso ospedali pubblici. Il numero inferiore rispetto a quello previsto dalle condizioni contrattuali con l'azienda sanitaria ho impiegato semplice personale ausiliario, privo del prescritto titolo abilitativo, anziché figure professionali socio-sanitarie o SS ed infine personale medico non specializzato adeguatamente per l'incarico da ricoprire. Inoltre è stata accertata la fornitura di medici da parte di cooperative con età anagrafica superiore a quella stabilita contrattualmente anche sopra i 70 anni e l'impiego esternalizzato di risorse umane non adatte a esigenze di specifici reparti ospedalieri. Penso ai reparti di ostetricia e ginecologia che hanno avuto personale sanitario tra cui medici generici non formato a gestire parti cesaree o ancora personale medico da impiegare presso il pronto soccorso non specializzato in medicina d'urgenza. E sempre l'onorevole Quartini il tema della prevenzione primaria. Una considerazione finale a cui tengo molto vorrei che il Ministro mi incoraggiasse che si sta andando in una qualche direzione da questo punto di vista. Si è parlato poco nella sua presentazione di prevenzione. Prevenzione primaria di fattori di rischio di malattia, di fumo di sigaretta che sappiamo benissimo sono stati alla base anche del danno sindemico piuttosto che del danno pandemico e credo che questo sia un elemento su cui dobbiamo riflettere. Sappiamo che i danni da ambiente in Italia sono più significativi che nel resto d'Europa, abbiamo aree in Valpadana nella piana fiorentina dove c'è un inquinamento che è più alto che in tutto il resto d'Europa e sappiamo che sono 90.000 i morti l'anno da inquinamento quindi bisogna lavorare anche in quella direzione quando si parla di cronico. Replico. In considerazione della preoccupante diffusione di stili di vita non salutari intendo in coerenza con le strategie e le finalità del programma guadagnare salute rendere facili le scelte salutari e del piano nazionale della prevenzione 2020-2025. Primo potenziare gli interventi di contrasto a sedentarietà e in attività fisica tra i principali fattori di rischio modificabili indipendenti per le malattie croniche non trasmissibili attraverso la definizione di un programma nazionale di promozione dell'attività fisica condiviso con i principali stakeholder istituzionali e non secondo un approccio intersettoriale che comprenda la definizione delle modalità di prescrizione dell'esercizio fisico e di erogazione sul territorio nazionale tenendo conto anche delle previsioni dell'allegato 1 del DPCM 12 gennaio 2017 di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza che include la promozione dell'attività fisica quale prestazione esigibile. Due affrontare la prevenzione e il contrasto del tabagismo tuttora principale causa di morbosità e mortalità prevenibile in Italia per conseguire l'obiettivo sfidante del piano europeo contro il cancro 2021 Europe's beating cancer plan di creare una generazione libera dal tabacco nella quale meno del 5% della popolazione consumi tabacco entro il 2040. A tal fine dovranno essere adottate misure atte a garantire a tutti i cittadini la massima tutela della salute fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività tenendo conto della costante crescente diffusione nel mercato di nuovi prodotti sigarette elettroniche prodotti del tabacco senza combustione e delle sempre più numerose evidenze sui loro possibili effetti dannosi per la salute. Accanto al supporto agli interventi di prevenzione e di disuasifazione si ritiene necessario e strategico assicurare il massimo supporto alle azioni dell'Unione Europea attraverso il ricepimento entro il 23 luglio di quest'anno della direttiva delegata della Commissione che emenda la direttiva 2014-40 EU relativamente all'eliminazione di alcune esenzioni che riguardano i prodotti del tabacco riscaldato onde consentirne l'entrata in vigore dal 23 ottobre di quest'anno e al processo di complessiva revisione della stessa direttiva europea e della direttiva fiscale. Tale processo punta a consentire che diversi molteplici interessi correlati al prodotto del tabacco che coinvolgono i dicasteri economici non prevalgano sulla tutela della salute. Intendo inoltre proporre l'aggiornamento e l'ampliamento dell'articolo 51 della legge 3 2003 per estendere il divieto di fumo in altri luoghi all'aperto in presenza di minori e donne in gravidanza. Eliminare la possibilità di attrezzare sale e fumatori nei locali chiusi. Estendere il divieto anche alle emissioni dei nuovi prodotti non da fumo, sigarette elettroniche e prodotti del tabacco riscaldato. Estendere il divieto di pubblicità ai nuovi prodotti contenenti nicotina e ai device dei prodotti del tabacco riscaldato. Continuo con il tema della non autosufficienza. L'onorevole chiedeva, gradirei qualcosa in più sulla capacità del sistema che dovrebbe implementarsi per prevenire la non autosufficienza, quindi fare in modo che si rallenti la progressione dell'autosufficienza alla non autosufficienza e anche promuovere il silver co-housing in alternativa alle RSA, che come diceva il più grande geriatra che abbiamo avuto in Italia, il professor Antonini, sono il modo peggiore per finire la propria vita. Riguardo al tema della non autosufficienza, oltre a richiamare le azioni già prima citate, voglio ricordare quanto ho affermato nella mia relazione principale. La piena efficacia del DPCM e LEA consentirà di affrontare quella che continua ad essere la principale sfida dei sistemi sanitari. La cronicità, ovvero le condizioni più o meno permanenti nel lungo periodo di fragilità, non autosufficienza, disabilità. La sostenibilità economica appare essere l'aspetto più arduo, ma forse il problema centrale è la difficoltà, spesso insoluta, di realizzare un percorso che risponda alle peculiari esigenze di questi utenti, attraverso l'apporto coordinato e continuativo dei diversi operatori, servizi, presidi, che a seconda del caso si rendono necessari. A tal fine si prospetta la necessità di un aggiornamento del piano nazionale e delle cronicità. Inoltre ricordo nuovamente il disegno di legge recante deleghe al Governo in materia di politica in favore delle persone anziane, in materia di assistenza agli anziani non autosufficienti, ove le deleghe previste riguardano principalmente le politiche per l'invecchiamento attivo, la promozione dell'autonomia, la prevenzione della fragilità, l'assistenza e la cura delle persone anziane anche non autosufficienti. E passo all'onorevole Girelli sul tema della prevenzione degli stili di vita. Aveva detto si è parlato di prevenzione, ecco le chiedo come si intende soprattutto implementare il tema dell'educazione, anche gli stili di vita alimentari, il tema della salubrità dei luoghi di lavoro, la sicurezza dei luoghi di lavoro, piuttosto che dell'ambiente in cui viviamo. Insomma un passaggio dall'idea di sanità intesa come cura della malattia a cura della persona e quindi la tutela del suo benessere. Su questo tema specifico rimando a quanto ho detto precedentemente circa il mio impegno in riferimento alla prevenzione primaria. Altro tema era quello del personale e della formazione, si è parlato di strumentazioni, di telemedicina, tutte le opportunità che giustamente ormai la tecnologia ci permette. Le chiedo come si intende investire soprattutto per formare le persone all'uso di questi strumenti, perché specie nelle zone periferiche per le persone più anziane, invece che diventare dei facilitatori rischiano di diventare dei motivi di ulteriore disagio oppure di marginalizzazione. Si è parlato di personale giustamente, troppe volte c'è un eccesso di specializzazione, secondo me di attenzione sulla malattia invece che sulla persona malata che ha bisogno di un'equipe che se ne occupa e la prenda in carico. È anche un rapporto più stretto con il tema di enti locali, quindi con il socio sanitario. Il modo di vivere ha molto a che fare con la qualità della vita e quindi anche sulla prevenzione e sulla salute della persona. Sul personale c'è da fare un forte investimento, non solo in termini economici ma anche di ruolo. Penso che la crisi dei medici di medicina generale non sia dovuta solo ad un fatto economico, ma è dovuta al mancato riconoscimento di un ruolo storicamente, che storicamente hanno avuto, strategicamente importante per il nostro sistema. Non voglio tralasciare il rapporto pubblico-privato che secondo me va affrontato in maniera molto seria. Vengo dalla Lombardia dove questo rapporto ha generato qualche problema. Non è un'accusa al privato ma la necessità di ricondurlo a una regia pubblica. Riguardo a questo tema ribadisco che sarà necessario garantire adeguate risorse al sistema, soprattutto nelle specialità e negli ambiti disciplinari che oggi registrano scalse adesioni. Rinnovo il mio impegno ad assicurare le necessarie risorse al sistema per la formazione degli operatori anche nelle zone più disagiate e ad intervenire in tema di programmazione dei fabbisogni del personale sanitario. Passo all'onorevole Zanella sul tema del finanziamento del sistema sanitario nazionale e quindi il fatto che invece si preveda nei prossimi tre anni, nel triennio previsto dalla legge di bilancio, invece come è stato sottolineato da altri colleghi, un progressivo calo. Ci fa veramente disperare da questo punto di vista non ci siamo. E in questo senso spero che i nostri emendamenti vengano approvati perché sicuramente andranno a porre rimedio ad una contraddizione in termini e anche ad una impossibilità di realizzare il programma stesso che è stato proposto. Su questo vorrei fare una precisazione sul tema del finanziamento del sistema sanitario nazionale. Sono noti infatti i contenuti del dibattito in corso circa l'effettiva capacità dei vigenti criteri di ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard di rappresentare esattamente il bisogno di salute delle diverse regioni italiane e quindi la necessità di definire nuovi parametri. In particolare il decreto legislativo del 6 maggio 2011, numero 68, di attuazione della legge delega 5 maggio 2009, numero 42, ha disposto che la ripartizione del livello di finanziamento statale al sistema sanitario nazionale avvenga applicando il costo medio registrato per singolo livello di assistenza nelle regioni di riferimento, le cosiddette regioni benchmark, da queste alle restanti regioni e province autonome, sulla base della popolazione residente pesata per classi di età. Nel corso degli anni le regioni sono ripetutamente intervenute sugli esiti delle proposte di riparto ministeriale, riequilibrandone le risultanze attraverso una mirata allocazione della cosiddetta quota premiale, pari allo 0,25% del livello annuo del Fondo Sanitario Nazionale, ai sensi dell'articolo 2,67 bis della legge 23 dicembre 2009, numero 191. Nel corso degli ultimi anni, quindi, il riparto di questa quota premiale è stato ritenuto complementare alle risorse assegnate in applicazione al riparto ministeriale, costituendo una componente importante nella definizione delle risorse complessive assegnate ad ogni regione. L'aggiornamento dei criteri di riparto, oltre ad essere sempre più un'esigenza sentita da molte componenti del sistema sanitario italiano, è anche previsto dalla stessa normativa di riferimento. A tale riguardo è prioritario portare a termine il percorso con le regioni, un percorso che auspichiamo celere, costruttivo e condiviso, al fine di individuare nuovi criteri di riparto che consentano di contemperare il carattere unitario e universalistico del sistema sanitario nazionale, la funzione di garanzia e solidarietà dello Stato, con la valorizzazione dei modelli più virtuosi esistenti a livello regionale, anche con un eventuale ripensamento della funzione e della quota premiale a favore delle regioni stesse. Ci tengo tuttavia ad evidenziare che dopo un periodo prepandemico di definanziamento del Fondo del Sistema Sanitario Nazionale, la legge di bilancio per il 2023 ha previsto un incremento del Fondo Sanitario Nazionale, in particolare il comma 535 ha disposto che il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, cui concorre lo Stato, è incrementato di 2 miliardi e 150 milioni di euro per l'anno 2023, 2 miliardi e 300 milioni di euro per l'anno 2024 e 2 miliardi e 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Solo per l'anno 2023 una quota dell'incremento di cui al primo periodo, pari a 1 miliardo e 400 milioni di euro, è destinata a contribuire ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche. Si tratta con ogni evidenza di una importante inversione di tendenza, che auspico possa essere ulteriormente perseguita anche per il futuro, con l'utilizzo di risorse sempre più cospicue. Il tema della prevenzione primaria e secondaria, il secondo aspetto che volevo sottolineare per chiudere è questo, in termini di prevenzione e promozione di salute vorrei avere i dati più precisi di quanto viene destinato, in termini anche di risorse e di progetti alla prevenzione primaria e secondaria. Se non si affronta veramente in maniera risoluta ed efficace il problema degli stili di vita, del rischio ambientale, dell'inquinamento atmosferico e dei rischi legati al lavoro, secondo noi sarà molto difficile dare concretezza a quella che è una delle dimensioni che possono non soltanto promuovere la salute, ma anche ridurre la spesa pubblica, evitando di essere costretti a erogare terapie, spesso per molti anni. La mia replica, come sappiamo il tema del rapporto ambiente-salute e conseguentemente quello dell'interazione tra le istituzioni preposte alla tutela dei due interessi costituzionalmente protetti e oggetto di attenzione da parte del PNRR. Se ne fa menzione nell'ambito della Missione 6 e del Piano Nazionale degli Investimenti Complementari PNC con il progetto Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima. In tale contesto l'articolo 27 del Decreto-Legge del 30 aprile 2022, convertito con modifiche dalla legge 29 giugno 2022 numero 79, ha istituito il Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai Rischi Ambientali e Climatici, CNPS, che mira a realizzare una nuova governanza del settore, allo scopo di migliorare e armonizzare le politiche e le strategie messe in atto dal Servizio Sanitario Nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non associate a rischi ambientali e climatici. In altri termini, con l'istituzione del CNPS e quindi mediante la messa in rete delle varie istituzioni coinvolte, nonché mediante l'interazione con il Sistema Nazionale a Rete per la Protezione Ambientale, si persegue l'obiettivo di rafforzare la capacità, l'efficacia, la resilienza e l'equità del Paese di fronte agli impatti sulla salute, attuali e futuri, associati a rischi ambientali e climatici, potenziando l'attività di prevenzione sanitaria relativa a rischi potenziali connessi allo sviluppo e migliorando le risposte ai bisogni di salute, soprattutto in contesti ambientali compromessi. Le criticità riscontrate nelle politiche e nelle azioni istituzionali a livello centrale e periferico nella prevenzione e promozione della salute finora messe in atto sono state evidenziate anche in occasione del contrasto alla diffusione della pandemia da Covid-19. Infatti le dinamiche di insorgenza e propagazione in forma epidemica sono influenzate anche dal tipo di equilibrio esistente fra l'uomo e il suo ecosistema e le loro conseguenze negative per la salute possono trovare nella presenza di inquinanti ambientali pericolosi moltiplicatori d'effetto. È proprio per superare questi limiti, attuando la richiamata previsione del PNRR e del PNC, che la norma prevede sia l'istituzione del CNPS che la sua interazione col CNPA. L'obiettivo sotteso alla realizzazione del CNPS è che tramite l'interazione con il Sistema Nazionale a Rete per la Protezione Ambientale, CNPA, dovrà concorrere al perseguimento degli obiettivi di prevenzione primaria, correlati in particolare alla promozione della salute, alla prevenzione dell'esposizione ai rischi ambientali e climatici, al controllo dei rischi sanitari associati a determinati ambienti climatici e particolare attenzione alle comunità e alle persone vulnerabili o in situazioni di vulnerabilità. Viene fatto espresso richiamo al principio di equità, già valorizzato tra l'altro dal PNP 2020-2025, approvato con intesa in conferenza Stato-Regione e al principio di prossimità. A tal fine il CNPS identifica e valuta le problematiche sanitarie associate a rischi ambientali e climatici, per contribuire alla definizione e all'implementazione di politiche di prevenzione attraverso l'integrazione con altri settori, favorisce l'inclusione della salute nei processi decisionali che coinvolgono altri settori anche attraverso attività di comunicazione istituzionale e formazione, concorre per i profili di competenza alla definizione e implementazione degli atti di programmazione in materia di prevenzione e dei livelli essenziali di assistenza, associate a priorità di prevenzione primaria, assicurando la coerenza con le azioni in materia dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche e ambientali, l'EPTA, di cui l'articolo 9 della legge 28 giugno 2016, numero 132. Concorre all'individuazione e allo sviluppo di criteri, metodi, sistemi di monitoraggio integrati, anche avvalendosi di sistemi informativi funzionali all'acquisizione, all'analisi, all'integrazione e all'interpretazione di modelli e dati, assicura il supporto alle autorità competenti nel settore ambientale per l'implementazione della valutazione di impatto sulla salute, nell'ambito della valutazione ambientale strategica, della valutazione dell'autorizzazione integrata dell'ambiente. Le previsioni normative elenca inoltre i soggetti che operando in coordinamento tra di loro, in una logica di rete, fanno parte del sistema SNPS. Tra questi, dipartimenti di prevenzione costituiscono la dorsale dell'istituendo sistema, di cui fanno parte anche le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che oltre ad esercitare i loro compiti istituzionali, assumono funzioni di coordinamento in rete tra i predetti dipartimenti, nonché tra gli stessi le strutture sanitarie pubbliche e private e gli altri enti del territorio di competenza che concorrono al raggiungimento degli obiettivi. Insomma, al CNPS concorreranno anche i sistemi regionali di prevenzione della salute dei rischi ambientali e climatici. Altri fondamentali attori del sistema sono gli istituti zooprofilattici sperimentali, l'Istituto Superiore di Sanità e, naturalmente, il Ministero della Salute. In particolare, l'Istituto Superiore di Sanità, in ragione delle competenze tecniche di cui dispone e del ruolo di sostegno ed enti del Sistema Sanitario Nazionale, entra e fa parte del CNPS con compiti di coordinamento e di supporto tecnico-scientifico. Al Ministero della Salute sono deputati l'indirizzo alla programmazione, il monitoraggio e le attività di comunicazione istituzionale, anche mediante l'adozione di apposite direttive. Il decreto del Ministero della Salute del giugno 2022, adottato previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ha individuato specifici compiti che tutti i soggetti sopra elencati svolgono nell'ambito del CNPS per l'espletamento delle proprie funzioni. Rimango e concludo in tema di prevenzione per confermare tutto il mio impegno a finanziare il Piano Nazionale Oncologico, che è il documento di pianificazione e indirizzo per la prevenzione e il contrasto del cancro per il quinquennio 2022-2027, ed è la cornice strategica e complessiva che consente il graduare sviluppo di azioni coordinate e sinergiche per migliorare il grado di implementazione dei programmi di screening, aumentando i livelli di copertura ed adesione e riducendo la disomogeneità territoriale. Il Piano mira anche a contribuire a tutti gli obiettivi del Piano contro il cancro dell'Europa per il 2021, con particolare riguardo ad aspetti innovativi correlati alle scienze omiche, allo sviluppo di tecniche di intelligenza artificiale, all'introduzione di nuove tecnologie per un corretto approccio preventivo, diagnostico e terapeutico. In proposito, ho promosso l'elaborazione di un'apposita proposta emendativa da inserire nel decreto legge in materia di proroghe dei termini in conversione al Senato. E concludo con l'On. Loizzo sul tema della gestione della pandemia. Le chiedo ancora un particolare impegno perché si faccia chiarezza sulla gestione sanitaria del Covid. Lo dobbiamo a tutti gli operatori che hanno lasciato i loro figli orfani e che meritano di avere chiarezza. Su questo tema, per quanto riguarda la gestione sanitaria della pandemia, pur concordando sulla necessità di chiarirne i punti meno chiari, la deliberazione delle istituzioni di eventuali commissioni è di competenza parlamentare e su questo so che ci sono già delle iniziative. Il tema dell'azienda ospedaliera universitaria in Calabria. Le segnalo, per quanto lei lo saprà, che anche la Calabria ha necessità di sapere con certezza il percorso da seguire nella fusione per incorporazione della Mater Domini col Pugliese Ciaccio. Non è un solo un problema calabrese. Questo ritardo impedisce il decollo di grandi aziende, la cui fusione per incorporazione non deve assolutamente dimenticare la qualità della ricerca assegnata agli universitari accanto alla qualità della parte clinico-assistenziale. Parte ovviamente ospedaliera. Quindi su questo le chiedo un suo particolare impegno. Su quest'ultimo tema ribadisco l'impegno del Ministero che rappresento ad affiancare la Regione Calabria nelle importanti scelte programmatiche che si trova a compiere. In tal senso il mio ufficio legislativo, proprio in questi giorni, su richiesta del Presidente della Regione Calabria, ha fornito un parere giuridico che consentirà al Presidente, Commissario ad acta per il rientro del deficit della Regione Calabria, di procedere celermente alla definizione della procedura di fusione per incorporazione dell'azienda ospedaliera Pugliese Sciaccio nell'azienda ospedaliera universitaria Mater Dominic. Grazie. Grazie, signor Ministro. Possiamo passare alla informativa sulla questione relativa alla carenza di alcuni medicinali. Grazie. Grazie a lei. In via preliminare, prima di entrare nel merito degli aspetti tecnici relativi alla carenza di medicinali, mi sembra opportuno segnalare che il tema carenza non costituisce un argomento di nuova trattazione. Un fenomeno che ricorre periodicamente, tanto che il legislatore nazionale aveva introdotto specifiche misure per mitigarne gli effetti già con l'articolo 13 del decreto legislativo, scusate, del decreto legge 35 del 2019, così come modificato in sede di conversione dalla legge 60 del 2019. Inoltre, già il decreto legislativo numero 219 del 2006, di recepimento della direttiva 2001-83-CE, all'articolo 34, prevedeva specifiche misure per evitare casi di carenza di medicinale. Svolta questa considerazione di carattere generale, in data 11 gennaio ultimo scorso, ho convocato un tavolo di lavoro permanente sull'approvvigionamento dei farmaci per definire la reale entità del fenomeno e indicare proposte risolutive alla presenza di rappresentanti del Ministero della Salute, di AIFA e della filiera farmaceutica produttiva e della distribuzione. Il tavolo, che ho provveduto ad istituire con un decreto ministeriale, è stato allargato anche ai NAS e ai medici di Medicina Generale. Passo adesso ad illustrare gli elementi tecnici utili per la comprensione del fenomeno forniti dalla competente agenzia italiana del farmaco dall'AIFA. A riguardo, occorre considerare che una sovrapposizione di fenomeni di natura diversa, aumenti di costi legati alla situazione internazionale, picco di domanda per i farmaci cosiddetti stagionali, polarizzazione su poche molecole delle scelte terapeutiche proposte dai prescrittori per le malattie di stagione, coda delle difficoltà produttive legate alla pandemia da Covid-19, sta creando tensione nell'approvvigionamento di alcuni medicinali specifici, fondamentalmente antinfiammatori, antinfluenzali e antibiotici. Questa difficoltà, giustamente sottolineata dagli operatori, non sarebbe direttamente riconducibile alle carenze di farmaci, data l'ampia disponibilità di farmaci equivalenti sul mercato, ma il limitato ricorso agli equivalenti fa sì che venga invece collegata alla vasta lista di farmaci carenti che AIFA pubblica da oltre dieci anni per supportare pazienti e operatori, che conta oltre 3.000 prodotti, quasi tutti però con equivalenti presenti sul mercato. Pertanto potremmo dire che a causa di una non appropriata informazione o distorsione mediatica passa quindi questo tipo di messaggio, mancano oltre 3.000 farmaci, antinfluenzali ma anche antitumorali, mentre il quadro corretto invece potrebbe essere così rappresentato. Risultano presenti nell'elenco dei medicinali carenti oltre 3.000 farmaci, questi comprendono farmaci carenti ed incessata commercializzazione, per i quali però è quasi sempre possibile ricorrere a equivalenti o, nei rari casi in cui questi mancano, all'importazione dall'estero o anche spesso, grazie alle farmacie, alle preparazioni galeniche. In vero, dei 3.000 farmaci nella lista carenti AIFA, circa 300 sono privi di equivalenti e quindi inseriti nella lista dei prodotti importabili su richiesta delle strutture sanitarie, invece non sostituiti da altri farmaci alternativi. Questi di fatto sono meno di 30 specialità, di cui peraltro non si discorre in questi giorni sui media. Bisogna anche constatare che la comunicazione allarmistica sulle carenze di questi giorni sta generando quella che tecnicamente si chiama carenza di rimbalzo. L'accaparramento del farmaco da parte dei pazienti, preoccupati di avere a disposizione una scorta di un prodotto che potrebbe sembrare a rischio e questo rafforza il picco di domanda, creando ulteriori tensioni l'approvvigionamento. Visto il quadro corrente, oltre a supportare le iniziative di comunicazione, tese a chiarire la reale situazione delle carenze, si è già valutato di procedere, dopo questa fase di crisi mediatica, ad una revisione dell'impianto della lista dei farmaci carenti, già discussa e concordata in sede di tavolo tecnico in disponibilità presso AIFA con gli attori interessati. Si provviderà ad espungere dalla lista principale tutti i farmaci di non significativa importanza. In questo quadro sarà anche possibile definire e promuovere d'intesa con tutta la rete ulteriori iniziative formative ed informative che aiutino ad aumentare l'accesso agli strumenti già disponibili e lo ribadisco, equivalenti, preparazioni galeniche, importazione. In prospettiva, inoltre, sono stati proposti anche altri interventi strutturali rispetto al tema degli aumenti di costi indotti dalla tensione internazionale. I farmaci con prezzo al di sotto dei 5 euro sono a maggior rischio di perdita di renumeratività, sono un esempio dei possibili interventi. E passiamo a dare qualche informazione sulla lista dei medicinali carenti, lista presente sul sito dell'Agenzia Italiana del Farmaco. Sul portale istituzionale dell'AIFA viene costantemente aggiornata la lista dei medicinali temporaneamente carenti e contiene queste informazioni. Il nome commerciale del farmaco carente, il principio attivo, la forma farmaceutica, la confezione e il nominativo dell'azienda titolare dell'AIC, dell'autorizzazione all'emissione in commercio. La data d'inizio e di presunta conclusione della carenza, l'esistenza o meno di equivalenti, le motivazioni che hanno determinato la carenza e, dico molto importante, suggerimenti per pazienti e prescrittori e o riferimenti a specifici provvenimenti adottati dall'AIFA. Sono inoltre presenti altre note aggiuntive. L'enco in questione viene alimentato dalle informazioni trasmesse dai titolari di AIC e sulle basi delle segnalazioni ricevute e verificate dall'ufficio competente ed è pubblicato usualmente due volte a settimana. I farmaci inclusi, per i quali normalmente sono disponibili in commercio numerosi equivalenti, appartengono a molte diverse categorie terapeutiche ed in genere vengono dichiarati in carenza per problemi tecnico-produttivi o a seguito di scelte commerciali dei titolari dell'autorizzazione all'emissione in commercio. Inoltre, in questa fase di incertezza, vista la necessità per i titolari di AIC di ottemperare alle tempistiche in materia di comunicazione delle carenze, si registrano in alcuni casi comunicazioni preventive volte ad evitare la combinazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. Ad esempio, la pubblicazione dello scorso 11 gennaio elenca 3.197 farmaci singole confezioni carente, includendo carenze, cessate commercializzazioni temporanee e definitive sospensioni. Però, di questi, 1.804 sono farmaci effettivamente carenti, escluse quindi le cessate commercializzazioni definitive e le sospensioni, ma solo 1.631 di questi hanno data di inizio carenza successiva al 1. gennaio 2022, incluse carenze, cessate commercializzazioni temporanee definitive e sospensioni. Le effettive carenze produttive sono quindi queste, relative a farmaci per i quali l'assenza dal mercato dichiarato dal titolare è recente, meno di un anno e rappresentano circa la metà dell'elenco AIFA. In aggiunta, viene pubblicato un estratto della lista con i farmaci temporaneamente carenti, privi di equivalenti e o alternative sul nostro mercato, per i quali l'AIFA rilascia l'autorizzazione all'importazione alle strutture sanitarie per analogo autorizzato all'estero o ha rilasciato la determinazione all'importazione al titolare AIC. Le carenze potenzialmente critiche sono quelle inserite in questo elenco e oggi includono 325 farmaci. Dai dati dell'ufficio competente, l'importazione effettiva riguarda solo pochi di questi farmaci. Nel 2021, i primi 21 farmaci più importati rappresentano circa l'80% delle importazioni autorizzate dall'ufficio. In conclusione, la lista è uno strumento regolatorio, pubblicato a supporto degli operatori sanitari e della distribuzione, che include anche tutti gli elementi relativi alle azioni che possono essere intraprese a supporto dei pazienti. Prescrizione di equivalenti, passaggio a terapia alternativa, accesso all'importazione di analogo estero. Per facilitare le valutazioni è stato anche predisposto un documento guida inserito anche nell'app per i pazienti messi a disposizione dalla stessa agenzia, che permette di ricevere segnalazioni su possibili carenze di farmaci di interesse. Analizziamo ora le carenze dei medicinali e le importazioni. le tipologie di carenze emerse negli ultimi anni sono fondamentalmente tre. La prima, carenze produttive. Le aziende titolari delle AIC comunicano l'impossibilità di rifornire il mercato italiano di un quantitativo sufficiente di farmaco. AIFA pubblica sul proprio sito il registro dei medicinali carenti, indicando anche le eventuali misure di tutela per i pazienti. Laddove non siano presenti equivalenti alternative sul mercato. L'elenco ristretto dei farmaci per i quali AIFA autorizza le strutture sanitarie all'importazione per i pazienti o ha rilasciato la determinazione all'importazione al titolare AIC viene pubblicato come documento separato nello stesso sito AIFA, per rendere più accessibile l'informazione anche ai pazienti. Le azioni per il contrasto di tali patologie di carenza, di intesa con regioni e stakeholder privati, prevedono 1. Importazione di analoghi, che è lo strumento principale, 2. Gestione degli stock disponibili, contingentamento e o distribuzione centralizzata, blocco degli export nei casi in cui sia ritenuto necessario o utile, comunicazioni a operatori sanitari, filiera distributiva, associazioni scientifiche, referenti regionali, associazioni di pazienti con il coinvolgimento dei titolari, valutazione di deroghe necessarie per garantire continuità terapeutica, coordinamento con altre istituzioni nazionali e internazionali. La seconda causa è l'indisponibilità. Questa riguarda prodotti non presenti sul mercato, spesso a causa di distorsioni distributive, usualmente legate a parallel trade da parte di grossisti italiani e quindi non dichiarati come carenti. Le segnalazioni relative vengono inviate dai pazienti e dalle farmacie alle regioni, che possono poi informare il Ministero della Salute e l'AIFA rispetto a situazioni ricorrenti sulle quali non sia stato possibile intervenire a livello locale. A supporto delle regioni, l'AIFA convoca dal 2015 il già citato tavolo tecnico in disponibilità, che ha disposto interventi mirati. Tra questi, ricordo, ispezioni coordinate con il comando dei NAS, verifiche a livello internazionale su esportazioni sospette e ha condotto un'attività di sensibilizzazione sulla normativa vigente, coinvolgendo tutti gli attori della filiera, oltre che le amministrazioni competenti. Le indisponibilità non sono oggetto di pubblicazione da parte di AIFA, data la loro natura locale e temporanea. Il terzo tipo di carenza è quella legata alle mancate forniture ospedaliere. Questa riguarda carenze di farmaci oggetto di gare locali. Le aziende che si sono aggiudicate di forniture non le onorano nei tempi o rinunciano dopo l'ottenimento dell'appalto, generando ritardi e disagi alle strutture. Data la base privatistica e locale, che renderebbe difficile un intervento centrale diretto, la discussione nel tavolo tecnico in disponibilità della tematica ha portato prima all'intervento, attraverso le associazioni di titolari di AIC, su aziende che ricorrevano alle segnalazioni della casistica. In seguito all'avvio di un progetto tra SIFO, che è la società dei farmacisti ospedalieri, e l'AIFA, chiamato Drag Host, consistente in una piattaforma web per la condivisione sistematica delle segnalazioni di mancata fornitura ospedaliera, i cui dati saranno utilizzati per creare dei profili delle aziende a beneficio delle regioni, che potranno poi prevedere eventuali clausole di salvaguardia più rigide per quelle aziende che risultano meno affidabili dai dati Drag Host. Il progetto Drag Host è stato avviato nel 2019 come pilota nella regione Puglia, in vista di una sua estensione a livello nazionale. In questo quadro, l'importazione di farmaci è sicuramente uno degli strumenti di risoluzione utilizzato più frequentemente in caso di carenza. Nel sito AIFA sono presenti i moduli che i titolari AIC, strutture sanitarie e regioni possono utilizzare a riguardo, e questo lo trovate sul sito dell'AIFA, modulistica per carenze. In definitiva, le aziende farmaceutiche titolari di AIC hanno la possibilità di richiedere l'autorizzazione all'importazione di un medicinale temporaneamente carente di cui sono titolari, con indicazioni specifiche per gli emoderivati. Strutture sanitarie e regioni possono invece richiedere l'autorizzazione all'importazione per medicinali carenti autorizzati in Italia e i loro analoghi. La prevenzione delle carenze impegna istituzionalmente AIFA con continuità. L'esperienza accumulata in questo ambito ha fatto sì che anche nel passato sia stato possibile definire strumenti in grado di evitare pericolose mancanze di farmaci. Qualche nota sul tavolo tecnico di indisponibilità. AIFA è attivo su questo tema, al di là degli aspetti meramente produttivi. Questo tavolo tecnico di indisponibilità, attivato dal 2015, ha per esempio affrontato sistematicamente i temi distributivi che portano alle mancanze dei farmaci e ha permesso lo sviluppo di un dialogo continuo tra amministrazioni centrali e regionali e stakeholder privati. Partecipano al tavolo in questione i rappresentanti del Ministero della Salute, dei NAST, dell'Istituto Superiore di Sanità, delle amministrazioni di regioni e province autonome e tutte le sigle della produzione, distribuzione e vendita dei farmaci, oltre a società scientifiche, operatori tecnici e logistici. Grazie al tavolo sono stati realizzati interventi operativi, controlli sul territorio, comunicazioni al pubblico, agli operatori, formazione, sviluppo di linee guida normative. Il sistema italiano di contrasto alle carenze è un riferimento a livello europeo, come testimoniato non solo dal ruolo svolto sui diversi tavoli comunitari, ma anche dall'attribuzione ad AIFA della guida della Joint Action on Shortage, principale progetto europeo sul tema, il cui kick-off meeting è previsto per il prossimo mese di febbraio. Il tavolo aperto ha permesso di far partire, molto prima che sui tavoli europei, le discussioni con le aziende su progetti di prevenzione strategica, come le deroghe regolatorie mirate all'ottimizzazione delle produzioni, che devono evitare che le aziende non siano impattate direttamente da aspetti regolatori che vadano ad aggravare i ritardi dell'approvvigionamento. La discussione con Eugualia, l'organo di rappresentanza delle aziende che producono farmaci equivalenti, farmindustria ed afi, è già aperta e mira a trovare soluzioni condivise di sistema e non unilaterali, che non si limitino alla risoluzione dell'immediato. Qualche nota sul Covid e la crisi del 2020. Nel 2020, in coincidenza con la pandemia, si era chiaramente lavorato d'intesa con gli ospedali prioritariamente sulle carenze contingenti, ad esempio quelle degli anestetici, miorilassanti e altri prodotti per le rianimazioni. L'interfaccia costruita tra AIFA, regioni e strutture sanitari da un lato e le aziende produttrici dall'altro aveva garantito la continuità delle forniture per i prodotti critici, con una ottimizzazione delle risorse disponibili in un periodo di cui le carenze affiggevano tutto il territorio europeo. Contestualmente si era iniziato a lavorare anche sulle ipotesi di carenza delle immunoglobuline e che avrebbero potuto impattare sulla disponibilità di questi prodotti. È stato fatto un tavolo tecnico col Centro Nazionale Sangue, un tavolo di discussione con il Ministero delle Salute, le industrie, le regioni, le associazioni dei pazienti e tutti gli attori interessati per verificare quali potessero essere le strategie per prevenire qualsiasi mancanza di farmaci critici. Tra gli strumenti sviluppati rientra la pubblicazione della linea guida sull'utilizzo delle immunoglobuline in caso di carenza, realizzata al fine di ottimizzare i consumi e limitare gli sprechi in una situazione nella quale il prodotto avrebbe potuto essere poco disponibile. Queste e altre iniziative definite di concerto hanno fatto sì che nel 2021 la carenza non si sia verificata. E infine iniziative informative. Oltre alla pagina dedicata sul sito AIFA, l'AIFA stessa ha predisposto ulteriori strumenti informativi a supporto dei pazienti, tra i quali un'applicazione per dispositivi mobili AIFA medicinali, pensata come uno strumento pratico immediato per accedere a informazioni e ricevere notifiche, realizzata su stimolo e in collaborazione con associazioni scientifiche. A testimonianza del dialogo aperto sul tema anche direttamente con la rete dei pazienti, in particolare rispetto a categorie per le quali le carenze possano risultare maggiormente critiche. Tra le tipologie di farmaci per i quali sono stati ammessi a punto strumenti per le eventuali carenze rientrano per esempio tutti i prodotti per l'epilessia, per i quali lo shift terapeutico è più complesso. In questo ambito sono stati definiti interventi straordinari, come la predisposizione di schede guida per clinici e pazienti pubblicate sul sito AIFA e veicolate dalle associazioni di pazienti e dalle società scientifiche. O la promozione delle buone pratiche regionali, come le linee guida per la produzione galenica, realizzata da Regione Lombardia, Sifo e Sefap. O le produzioni straordinarie garantite da aziende private e dello stabilimento chimico, farmaceutico militare. Uno dei problemi più significativi gestiti in questi ultimi mesi riguarda per esempio il diazepam, indicato per crisi epilettiche nei bambini e per il quale è stata definita una modalità di approvvigionamento attraverso l'importazione di confezioni dall'estero e loro dispensazione tramite le farmacie aperte al pubblico, integrativa rispetto alle possibilità di preparazione galenica in farmacia che è già attiva da tempo. In questo ambito la collaborazione tra AIFA ed i clinici della Lega Italiana contro l'epilessia è stato un esempio di sinergia positiva a beneficio dei pazienti che ha permesso di attivare i meccanismi straordinari che hanno avuto il supporto delle Regioni e di tutta la filiera. Grazie. Grazie. Ringrazio il Ministro per la sua relazione dettagliata e molto puntuale. Credo a questo punto siamo arrivati al limite dell'inizio dei lavori d'aula ma non mi pare che ci siano richiesti intervento quindi si possono avere i testi scritti sia delle repliche del Ministro che della relazione. Assolutamente sì, certamente saranno resi disponibili. Certo, certo. Perfetto. Sarà l'occasione per avere ancora il piacere di avere il Ministro con noi. Grazie e considero quindi conclusa l'audizione. Grazie.